È da un po' di giorni che la Supercell sull'account Twitter pubblica immagini sul nuovo aggiornamento che avverrà domani 12 dicembre. Allora, prima di tutto c'è un nuovo aggiornamento in arrivo. Allora, se si va nel News Royale si può leggere, eccolo qua, nuovo aggiornamento, il nostro aggiornamento più elettrizzante di sempre. Quando arriverà questo aggiornamento a scoprire qui? Vabbè dopo lo vedo. Nuova arena, Valle Elettrica, oppure Arena Elettrica, ma è più Valle Elettrica. Raggiungi quest'arena a 3400 trofei. L'arena leggendale diventerà, vabbè l'arena 12, e aumenterà la frequenza. Due nuove carte, Zappies, che non so cosa vuol dire. Generano un mucchio di piccole macchine Zapp, chi le controlla? Stupido telefono! Solo il capomastro, il capomastro, il costruttore, lo sa, o lo riguarda la frequenza ovviamente. Il Lanter, il cacciatore, provoca un danno enorme a distanza ravvicinata, non molto dal lungo raggio. Quello che gli manca in precisione, lo compensa, lo compensa con le sue sopracciglia straordinariamente cespugliose. Sblocca entrambe oggi. Purtroppo, dopo lo leggeremo, c'è stato un problema, che vi darò dopo. Tre nuovi bauri. Il Lightning Chest, che si può dire in due modi. Nella baule saetta, oppure baule fulmine, penso che sia baule fulmine. Rimpiazza, pire di carte e a tua scelta per un massimo di 5 strike. Il baule futuro, penso. Rimpiazza, rimpiazza, no, dai uno sguardo al futuro e vedi cosa potrebbe contenere il tuo baule. Il baule del re, oppure il baule leggendario del re. Grande baule contenente principalmente carte epiche e leggendarie. Ottieni nuovi baule che con le missioni è nel negozio. Quattro cose ancora. In arrivo a dicembre, corsa all'oro, va beh, corsa alle gemme, eccetera, eccetera. Miglioramenti, le missioni regali giornaliani, adesso è sempre attiva. Le carte epiche e leggendari ora appaiono più frequentemente nel negozio. Un... Ops. Miglioramenti. Frequentemente nel negozio. Una volta raggiunto i 4000 più tropelli. Sopporto per l'iPhone X Samsung Galaxy S8+, 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 Samsung Note 8. Le carte già ammazzate di livello massimo hanno meno probabilità di apparire nel negozio o nei futuri chest. Bilanciamento. Abbiamo ribilanciato diverse carte. Speriamo che l'aggiornamento ti piaccia. Facci sapere cosa ne pensi su Reddit. Ci vediamo nell'arena. Team Clash. Vi pare che non vi piace? Penso che adesso siamo sul problema stesso. No. Bilanciamento. Vabbè. Andiamoci direttamente così. Eccolo qua. Aggiornamento 12 dicembre in arrivo. Abbiamo trovato un bug al quanto critico dell'ultimo minuto. Che bisogna risolvere prima di poter andare in live. Aggiornamento e bilanciamento incluso. Arriverà domani 12 dicembre. Invece che oggi. Ci vediamo nell'arena. Allora. Spero che vi piaccia questo nuovo aggiornamento in arrivo. A me piace un botto soprattutto per la nuova arena. Che è veramente fichissima. Veramente. 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 Spero. Veramente spero che. O il cacciatore. Anzi. Il cacciatore. Si è spostato. Si è messo in una di queste arene. Oppure direttamente nella nuova arena. Ovviamente. Penso che sia una mini tesla. O una mini scintilla. Sarà messa nella nuova arena. Comunque. No. Ci vediamo. Un prossimo video. Con. Clash Royale. Domani. Con il nuovo aggiornamento. Ciao. Ciao.